Gentili moderatori, cari colleghi, ringrazio per l'invito. A 25 anni dopo la formulazione dell'acronimo ALARA, noi sappiamo abbiamo di base tre principi fondamentali su cui basare la radioprotezione, giustificazione, ottimizzazione e responsabilizzazione per la dose limite. Ma qual è in realtà la dose limite? Soprattutto se prendiamo in considerazione il rischio stocastico, in realtà non c'è. Sulla colonna di destra... Scusate, ma non va. Sulla colonna di destra abbiamo la dose dei 30 millisievert in relazione alla media, che è stata effettuata durante l'evacuazione di Chernobyl. Nella colonna in centro abbiamo i 15 circa millisievert relativi a un'ablazione della fibrillazione atriale. Sappiamo benissimo che i cardiologi sono i peggiori da questo punto di vista per quanto riguarda l'esposizione fluoroscopica. Il rischio ovviamente è per il paziente, ma anche ovviamente per noi. Come aveva fatto vedere il dottor Russo prima, in ogni caso sicuramente quello che ci preoccupa di più sono le ablazioni complesse, ma anche per quanto riguarda le ablazioni semplici abbiamo un range che va da 1,6 a 25 millisievert, che non è sicuramente poco. Da singole esperienze multicentriche a trial, da singole esperienze monocentriche a trial multicentrici, di sicuro i sistemi non convenzionali di mappaggio ci hanno permesso di ridurre il carico fluoroscopico, ma l'utilizzo di tali sistemi non porta automaticamente a una riduzione delle radiazioni. E molto probabilmente è necessario sempre una learning curvo. Quindi dai dati della letteratura sappiamo che sicuramente tali sistemi ci permettono di effettuare una riduzione del carico di radiazioni. Più è sofisticata la tecnologia, minore è l'esposizione fluoroscopica. L'uso di questi sistemi non porta automaticamente a una riduzione fluoroscopica, c'è la necessità di sviluppare dei workflow procedurali. A ogni livello di esperienza è correlata una specifica learning curvo, generalmente breve per operatori esperti se comparati ad operatori con minore esperienza. Ci siamo molto concentrati ovviamente per ridurre il carico fluoroscopico nelle procedure complesse, però siamo di fronte a un paradosso, in cui c'è un trend in riduzione dell'esposizione per operatori esperti in procedure complesse, ma c'è un plateau di alte dosi per operatori magari meno esperti in procedure standard relativamente semplici. Di qui nasce un disegno dello studio con il registro di corte osservazionale prospettico multicentrico nell'adottare il sistema CARTO3 come solo prevalente modalità di imaging. L'obiettivo primario è la fattibilità del flowchart procedurale, integrato con il workflow dell'era practical guide. Parte da uno studio multicentrico pilota Lombardo. Step by step consiste nell'inserimento del cateteria volatore, nella costruzione della mappa FAM con ricostruzione della cava inferiore e cava superiore, TAG e IS, TAG della valvola tricuspi e del seno coronarico, inserimento dei diagnostici sulla scorta della mappa costruita. è una peculiarità secondo me dello studio anche quella di aver preso molti dati da elaborare. Quindi tempo di costruzione della FAM, tempo di scopia dedicato alla FAM, tempo di scopia dedicato ai diagnostici, tempo dedicato allo studio elettrofisiologico con il tempo di scopia dedicato allo studio elettrofisiologico, tempi di radiofrequenza con i tempi di scopia dedicati alla radiofrequenza. Ma da più parti ci viene detto che bisogna pensare in termini di dose efficace, non in termini di tempo di fluoroscopia. Beh, questo sicuramente è vero. Nostra opinione comunque il tempo della fluoroscopia è un parametro importante da prendere in considerazione perché va a verificare l'attitudine dell'operatore di utilizzare la radiofrequenza. Altre variabili come la DAP o la dose efficace che sono state prese in considerazione sono dipendenti invece da una pletora di variabili per cui a questo punto abbiamo integrato nel nostro protocollo l'Era Practical Guide. Ci sono 20 centri partecipanti, 38 operatori coinvolti, 430 procedure arruolate. Queste sono le tipologie di procedure. tachicardia nodale, flutter tipico, flutter atipico destro, WPV sinistro, WPV destro, tachicardia atriali destre. C'è un case mix di genere perfettamente identico con un'età media di 55 ma che va dai 7 agli 89 anni. Su un tempo dedicato alla fama di circa 12 minuti abbiamo zero scopia per la ricostruzione della nostra mappa su cui puoi navigare in virtuale. Su uno o due diagnostici utilizzati abbiamo circa 13 secondi di scopia che servono per introdurre i diagnostici. Per quanto riguarda su 17 minuti dedicati allo studio elettrofisiologico circa 2 secondi soltanto per le mappe di fluoroscopia. Su un tempo medio di fluoroscopia di radiofrequenza di 7 minuti abbiamo circa solo 10 secondi dedicati alla fluoroscopia. Quindi su un tempo procedurale medio che si attesta comunque dai dati della letteratura intorno ai 90 minuti abbiamo soltanto 22 secondi di scopia con un 67%, quindi 289 casi senza utilizzo dei raggi. Questi sono i valori della DAP. I valori della dose efficace sono in fase di elaborazione. Su tutte le procedure utilizzate abbiamo avuto la necessità soltanto di 6 cambi di elettrocatetere in relazione alla curva e in relazione all'utilizzo dell'irrigato piuttosto del non irrigato. Quindi direi che sono un numero abbastanza irrisorio rispetto alle 430 procedure. Quali sono i vantaggi? Sicuramente c'è un'immediata riduzione dell'assenza della fluoroscopia, precisione accuratezza con i tag dei punti di interesse, precisione millimetrica e foto soprattutto dei diagnostici sulle diverse proiezioni angolate. Sicuramente si è assistito a una riduzione del numero dei diagnostici molto probabilmente man mano che ci si impratichisce, una localizzazione della posizione dei cateteri relativa ad ogni punto, l'utilizzo anche di tool molto importanti come i visi, i tag e lo smart touch. Soprattutto la cosa importante è che nello studio su 20 centri partecipanti abbiamo suddiviso in centri ad alta esperienza, erano 5, cioè centri che facevano procedure almeno il 50% delle procedure con attenzione alla riduzione fluoroscopica, 15 hanno iniziato adottando il fluoroscopica. Noi non abbiamo osservato nessuna learning curve per nessuno degli operatori coinvolti, molto probabilmente seguendo step by step con ordine il fluoroscopica. C'è una riduzione o completa assenza dell'utilizzo della fluoroscopia, quindi fin dalla prima procedura, una conversione completa delle procedure convenzionali a carto, cioè questo significa che tutti i centri che prima non utilizzavano il carto come sistema di mappaggio e le facevano in convenzionali, hanno completamente sposato e adottato il sistema. Quindi l'adozione di un workflow sicuramente permette di molto probabilmente cambiare il tipo di mentalità, facendo la transizione da un mezzo associato alla fluoroscopia a un mezzo che si sostituisce alla fluoroscopia. Questo molto probabilmente è il primo step verso, verosimilmente credo sia molto importante, utilizzare e condividere un database nazionale multicentrico. Sicuramente gli sviluppi li attendiamo, come la visualizzazione per tutti i cateteri abblatori, il sensore di forza anche per i 4 mm, possibilità di visualizzare le guide sul carto, il transettare ovviamente a zeroscopia con l'eco intracardiaco. Grazie.